Come riutilizzare nell'industria lo scarto della zootecnia, il siero, lo hanno spiegato gli studenti del liceo scientifico di Gioia del Colle al Senato della Repubblica, nell'ambito del programma del Senato, un giorno in Senato. Allora noi abbiamo invitato in studio questa mattina i referenti di questo progetto, la professoressa Loredana Lippolis, coordinatrice del progetto del liceo scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del Colle e uno studente che ci spiegherà nel merito di che cosa avete parlato in Senato, Roberto Longobardo. Buongiorno. E poi abbiamo in studio Lino Patruno che farà una domanda. E dunque, innanzitutto parliamo di questa giornata. Siete tornati proprio ieri, avete trascorso due giorni a Roma. Come è andata? È stata un'attività, una visita assolutamente edificante, affascinante. Intanto perché visitare la capitale ha sempre un certo fascino. E in secondo luogo perché siamo entrati, abbiamo visitato Palazzo Madama, quindi i senatori ci hanno restituito questo bel monito. Ecco, vediamo adesso la foto. Sì, ci hanno restituito questo bel monito dicendo che visitiamo uno dei pilazzi della vita politica e che dobbiamo uscire con un forte senso dello Stato. E' assolutamente interessante stata anche la visita dell'archivio di Stato del Senato della Repubblica perché i funzionari, diciamo in particolar modo la dottoressa Lantero, ci ha illustrato un raccordo dal punto di vista tematico con quello che è stato l'argomento del nostro disegno di legge, ovvero la gestione delle acque e lo smaltimento del siero e quindi la difficoltà in qualche modo di trasformare questo siero da un materiale di risulta invece ad una risorsa. Perfetto, il titolo del disegno di legge sembra molto complicato. Allora Roberto ci spieghi nel merito di che cosa si tratta? Sì, allora innanzitutto tutto è partito dal nostro percorso di alternanza scuola-lavoro e abbiamo preso in analisi una problematica locale, vale a dire l'inquinamento del depuratore cittadino e dell'acquedotto. Da qui abbiamo scoperto, abbiamo capito che uno dei motivi di questo inquinamento era proprio lo smaltimento non corretto del siero all'interno dell'acquedotto stesso. Da qui poi è nata l'idea di costituire un consorzio. Nel disegno di legge viene illustrato attraverso dieci articoli come il consorzio venga formato e abbiamo la presenza di obblighi, obiettivi e anche sanzioni amministrative. L'emozione di essere nato in Senato? È forte, tanto forte, però l'esperienza è stata comunque ovviamente molto importante e anche bella. Lino Patruno. Ma vorrei fare una domanda a Roberto, professoressa mi consenta, ma un po' all'altre rispetto alla questione. Hai 18 anni, che farai dopo aver visitato il Senato? Andrai a votare? E dopo che farai? Resterai al sud o andrai via come tanti ragazzi? Difficili queste domande. Sì, sicuramente andrò a votare in quanto sia un nostro diritto che dovere, è importante farlo. E il mio obiettivo, anche come è scritto anche all'interno del consorzio, è evitare la fuga di cervelli. Quindi la speranza è quella di poter rimanere qui a lavorare e continuare il percorso di studi. Professoressa, la sua emozione invece è di andare in Senato? È un'emozione che conferma però un lavoro. Perché in realtà abbiamo sempre questa considerazione che la scuola rimanga distante dal mondo, diciamo così, della società, dell'attività politica. In realtà abbiamo provato a raccordare questi due mondi e a farli interagire. E quindi questo disegno di legge è proprio la dimostrazione che gli studenti possono approfondire la loro documentazione scientifica e immaginare che il siro possa essere riutilizzato. E anche comprendere i meccanismi del dibattito democratico. Assolutamente. Grazie mille, grazie, buona giornata e buona continuazione per i vostri progetti. Grazie Rino Patruno. Noi continuiamo con gli aggiornamenti delle notizie nel telegiornale.